Ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro Morning With Crypto l'appuntamento dal lunedì a venerdì che riguarda i mercati finanziari in particolare in particolare i mercati delle criptovalute andiamo insieme ad osservare quelle che sono state un paio di notizie molto importanti della notte andremo a vedere i principali gainers e losers su CoinGecko e poi andiamo a osservare il movimento della notte perché allora una è arrivato un dump con volumi molto bassi in realtà niente di particolare ma è stata una notte di volumi molto contratti e questo ha portato a una correzione detto questo ragazzi se questi contenuti come sempre fa piacere riceverli vi invito a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale col clic sulla campanellina per rimanere sempre sempre aggiornati detto questo ragazzi partiamo partiamo con la prima news che è quella del latino america perché Max Keiser che non so se sappiate chi sia ma è molto conosciuto in realtà nel settore è un individuo abbastanza controverso quindi è da prendere un po' con le pinze è molto eccentrico però è un billionaire che ha un sacco di soldi e è un massimalista di bitcoin molto 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 focus dice che nei prossimi sei mesi un altro paese del latino america andrà ad adottare bitcoin come legal tender quindi andrà a non essere più l'unico el salvador ad avere bitcoin come moneta corso legale ma sarà un altro un altro paese questo appunto dice ne sapremo di più nel 2022 q2 quindi il prossimo quarto di anno e appunto è andato a dare questa questa bomba mettiamola così lui dice di essere molto confident a riguardo dice che appunto potrebbe esserci un annuncio a breve insomma la butta lì in una condizione che comunque staremo ad osservare quale quale sarà anche questo questo stato del latino america se sarà uno stato molto piccolo come salvador oppure sarà qualcosa di più grosso si parlava tempo fa qualche qualche voce parlava di argentina parlava di altre di brasile parlavano di tanti stati quindi andremo ad osservare perché chiaramente anche quello sarà una 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 delle una delle delle cose più importanti perché chiaramente ricordiamoci che più lo stato è grande più va a impattare su un pil e più comunque sia va a dare a dare lustro ecco anche a questa cosa qua se andiamo a vederla a impatto economico sulla cosa però insomma ci tenevo a condividere perché comunque è un individuo che è max keiser che è molto particolare e a volte ci prende anche detto questo volevo un attimo passare ad approfondire in maniera abbastanza soft perché è mattina non voglio entrare nei dettagli tecnici altrimenti siamo un po troppo un po troppo early mettiamola così però da quello che si nota da questo articolo va a riassumere molto bene i trasferimenti di bitcoin quindi il volume di trasferimenti di bitcoin stanno vedendo un uptrend molto importante per quello che riguarda l'institutional dominance che cosa vuol dire institutional dominance significa che se andiamo ad osservare questo grafico ora ve lo zoom un pochettino così se ce la faccio così è più chiaro praticamente da ottobre 2020 questa chart va a farvi osservare come effettivamente i volumi che vanno da un milione a dieci milioni si hanno aumentati in maniera molto forte questo perché perché sono entrati in gioco istituzionali quindi fondi quindi entità che non stanno comprando poco ma comprano con dei volumi più importanti con delle size più importanti ecco con delle size quello che abbiamo visto poi nella fase di calo del primo prezzo è stata una sorta di continua discesa di questi volumi perché appunto si è un po' stemperata la situazione abbiamo visto una nuova salita e adesso stiamo rivedendo un leggero uptrend ok nella parte di volumi quindi by size superiori a un milione e anche superiori a dieci milioni questo chiaramente porta ad avere una dominance per quanto riguarda quello che è il volume istituzionale che sta crescendo e che quindi potrebbe dice questo articolo segnalare quello che ha un potenziale bottom e quindi di nuovo andare a vedere una salita dei prezzi nelle prossime settimane chiaramente un articolo chiaramente un indicatore un indicatore non per forza deve avere ragione quindi noi lo prendiamo in quanto tale e ovviamente lo ricordo non sono dei consigli di investimento né finanziari né di nulla andiamo a vedere quello che sono i principali gainers delle 24 ore invece troviamo un used leo quindi leo token che fa un più 2 e 7 il token evit phoenix troviamo celsius un più 2 e 4 del central and un più 2 maker un più 1 e 6 pancake un più 1 e mezzo wabi helium e poi abbiamo le stable quindi no così tanti no così tanti gamers a dirvi la verità per quello che riguarda gli users abbiamo più nomi abbiamo cadena che fa o meno 10 abbiamo luna che fa o meno 11 perde il supporto da 200 waves o meno 11 teta o meno 10 phantom o meno 10 erlond o meno 10 cosmos o meno 10 insomma è un po' di tutto anche nomi che comunque sia sono molto importanti e molto solidi ok perché troviamo nomi comunque che hanno fatto molto bene e questo un po' è dovuto a questa correzione questo candellone rosso orario che è arrivato alle ore 1 dopo aver perso questa trend line ma ancora presto ragazzi andiamo su time frame più ampi quindi intanto ve lo faccio vedere così abbiamo rotto questa trend line a ribasso abbiamo ritestata vedete con questa candela e poi alle 1 pam volumi bearish anche se notate qua le candele dei volumi qui sotto non stiamo parlando di niente di eccezionale ok ora ci troviamo in zona 37.087 anche qui con volumi praticamente nulli quindi staremo a vedere appena entreranno in gioco dei volumi per capire se andremo a recuperare velocemente queste aree qui oppure no a livello di total market cap rimaniamo sugli 1.63 trillion anche qua dovuta da questo drop di questo drop appunto del prezzo a livello daily vedete come lateralizziamo in questo range che va più o meno dagli 1.60 agli 1.70 quindi rimaniamo all'interno di questa zona per quello che riguarda invece la dominance chiaramente sta avendo molta forza la dominance complessiva sta avendo forza perché vedete come abbiamo lateralizzato molto bullish in questa zona qua e se dovessimo a continuare un po' di incertezza di mercato mi aspetto una prodo ai 43.51 per poi rivalutare un'eventuale correzione un po' come è accaduto in questa zona qua ragazzi io mi fermo non voglio andare lunghissimo stamattina qualora questi contenuti come sempre fossero stati di vostro interesse di vostro gradimento vi invito a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo appunto questa sera con il nostro update di analisi tecnica intanto vi auguro a tutti una buona giornata ciao